Conosciamo molto bene il Costa Rica che per noi è il primo vero esame di questa Gold Cup. Tutti conoscono e rispettano il valore di Belize e Cuba, ma il vero esame per noi comincia contro il Costa Rica. Non vediamo l'ora di giocare, abbiamo bisogno di sfide in cui siamo gomito a gomito con l'avversario. Sarà una partita incertissima e non vediamo l'ora di andare ad Hartford a giocarcela. Il Costa Rica è sempre una nazionale ottima, sono sempre un osso duro, ma noi daremo il meglio per i tre punti. Sono tosti e noi dovremo giocare come nella ripresa di oggi, con la mentalità di far girare la palla e segnare ogni volta che ne abbiamo l'occasione.